Ciao ragazzi, oggi siamo su un nuovo gioco che si chiama Brawl Stars Così, continuiamo Se voi non avete visto i miei video mi chiamo Vincenzo Sacco Iscrivetevi, mettete un mi piace e ammaccate la campanellina per iscrivervi Ora vi faccio vedere com'è questo Brawl Stars Iniziamo subito con la partita Andiamo bene, un occhio di casse qua ci sono Ragazzi, se non vi è piaciuto questo video lasciate qua sotto un commento che poi vi risponderò Poi se volete iscrivetevi pure al canale di un mio cugino che si chiama Giuseppe Impallaria Gesualdo Impallaria, scusatemi Aspetta che ora uccidiamo questo è il primo Ecco qua Ora camperiamo un pochino qua Uccidiamo questa cosa qua Di pam Fatto Uccidiamo pure Bull se vogliamo Sì, già l'abbiamo fatto No, siamo andati nella puzza ragazzi Siamo morti, che scemo che sono Buona posizione, siamo arrivati ai terzi più sei Ragazzi, mettete un mi piace, spolliciate e iscrivetevi al canale Ciao, ci vediamo al prossimo